Nero Norcia è la rassegna agroalimentare che dagli anni 50 promuove e valorizza le produzioni tipiche enogastronomiche e artigianali di eccellenza. Nero Norcia, come sempre vede grande protagonista il tartufo nero pregiato di Norcia, Tuber melanosporum vittadini, affiancando però all'esplorazione sulla storia, il gusto e la declinazione in cucina di questo straordinario frutto della terra, occasioni di analisi e confronto su temi di estrema attualità che riguardano il nostro paese e in particolare il territorio della Valnerina. I tre weekend della rassegna saranno articolati ciascuno con un focus, all'interno del quale si svolgeranno tavole rotonde con la partecipazione di esperti e momenti di dialogo con la comunità. Grazie per la visione!